Sì, non mi riconosce, sono Fatima. Dare un colore alle cose mi aiuta a vederle. Hai subito? E allora dai, eh. Ah, che spettacolo. Ferreri davvero si poteva amare o odiare. E' alta bene, abba, che a me il sordo vostro non mi serve. Ho un regalo per te. E sua madre non l'ha più di vista. Dio iscriviti al canale. Grazie a tutti.